Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Lucky Sfida Ragazzi nell'ultimo episodio ho fatto una piccola caff Cioè piccola ma effettivamente devo dire molto molto lezza Infatti volevo andare ad aprire il Lucky Block Horror Che appunto nel penultimo episodio avevo detto che avrei aperto Ma invece ho preso quelli merdosi, quelli pupi, quelli schifosi veramente Perché questo? Perché mi sono confuso Ma tranquilli, come potete vedere Oggi andremo a rimediare E per farmi perdonare ragazzi Nei prossimi episodi magari vi sparo qualche nuovo Lucky Block Anzi dai basta fare il misterioso Veramente devo smetterli di fare il misterioso così ogni volta No, se me lo ricordo nei due prossimi episodi ci saranno nuovi Lucky Block Senza tenere nulla nel mistero Detto questo comincerei da Oh mio dio Quello è un po' forte mi sa Quello è un po' forte Voglio cominciare dai Lucky Block Horror Perché detto via dai si sono buoni ci danno le cosettine top E invece guardate Mi ha subito fatto uscire un coso che mi ha devastato E tra l'altro è pure desponato Quindi continuiamo Ok perfetto si comincia già benino una spada Wow ragazzi che spada Questa qui non si era mai trovata prima E praticamente forse la più forte Comunque è una delle più forti Perché sarebbe la Texture Not Found Che se ne sono trovate tantissime però E la versione Ultimate E la versione Ultimate di questa spada non si è mai trovata Ci dà i cuori extra Sì le classiche cosettine da spada Lezzo incantata al massimo Molto molto buona come roba Tipo ora lui anche Ragazzi Vabbè ma è potentissimo In teoria pure lui c'aveva la spada Ultimate Perché quelli che hanno soltanto la spada Hanno l'arma potentissima appunto Se non c'hanno l'armatura E niente Ce li siamo bruciati ragazzi Due cosine erano sponati E ce li siamo bruciati di cattiveria Perché non abbiamo armatura E giustamente l'armatura Quando è che me la dà Dopo Con anche 20.000 puoi extra Del tipo che non potevo nemmeno creparci Mi dispiace ragazzi Mi dispiace tantissimo per questa cosa Perché veramente Potevamo fare grandi cose Invece guardate come siamo ridotti E vabbè Detto questo Io il boss di oggi Potrei affrontarlo così Avendo 5 Lucky Block Vabbè ma continuiamo ragazzi Allora Oh mio dio Che schifo sei Cioè Ah è il fratello di Metano Ok Va benissimo Non mi sembra avermi trovato una roba simile Tra l'altro è bruttissima Non pensavo nemmeno Si potesse mettere la testa di un player Su Un villager appunto Ma Guardate che schifo Io Non vorrei dire cosa sembra Ma ecco Il naso del villager In questo caso Non mi sembra un naso E io Non voglio andare oltre Con questo discorso No raga ma è assurdo È assurdo veramente Allora qua abbiamo le Golden Apple E queste sono quelle incantate Quindi Uscidiamo ne una Che cazzo di fine ha fatto la mela No 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 E vabbè ragazzi Devo uccidere una instant Ok ecco qua le mele No ce la fa ce la fa Ce l'ha fatta Ragazzi perché sono così sfigato Però sono ancora vivi E io stavolta Ho le mele OP Me ne mangio subito una ragazzi E andiamo a killare questi schifosi Che magari non mi danno nulla di buono Cioè il piccone se non sbaglio È interessante Non fa tanto danno Anche se comunque dovrebbe essere un'arma Se non ricordo male Ma Beh È un piccone Scava È utile Effettivamente Un bel po' di drop per terra c'è Ora Prima di continuare Voglio far spawnare tutte queste mucche ragazzi Perché le mele ci serviranno Facciamo anche spawnare quelle normali d'oro Così almeno facciamo un pochettino di scorta Che ci farebbero servire Anche mentre spacchettiamo Poi continuiamo un attimo Allora Il piccone fa ben 15 di danno ragazzi È tantissimo Questo però fa 10 E questo fa addirittura 9 Ok Ho preso subito quello più forte Riguardo all'armatura ragazzi Sono armature abbastanza lezze Quella in diamante magari me la tengo Perché non è male Vedete Fa anche più schifo ragazzi Protegge addirittura di meno Non mi piace per niente questa armatura qua Quindi la potremo buttare di cattiveria Quella in diamante la tengo Perché non si sa mai Potrebbe essere interessante per qualsiasi motivo E qua subito altre due cose Allora Questi qui mi danno dei cuori extra Ma non grazie a un pantalone rezi Anche i miei danno cuori extra Tra l'altro non me ne danno così tanti Da dare fastidio E poi abbiamo la staffa Ehm Una staffa che avevamo già trovato Se non ricordo male Non era questa Non era la power wand Ma era comunque simile Faceva la stessa identica cosa Molto buona Perché sono staffe comunque molto potenti E sicuramente ci servirà Ci potrebbe tornare utile Detto questo Sì Quella loot lì Potrebbe essere vuota Io non mi ci metto nemmeno ad aprirla Questi ragazzi hanno Cioè ci danno l'amore Seriamente Cioè cosa vuol dire che mi dà amore Ah Non c'è Che puttanata Cioè praticamente dovrebbe darmi un incantamento Questo qui dall'amore Nel senso che dai cuoricini E la cosa più stupida Che abbiamo mai visto su minecraft È più stupida È inutile veramente È triste come roba Comunque allora Un pochettino di effetti random Non mi dispiacciono Perché la speed così ci sta E abbiamo trovato Anche dei pantaloni Questi pantaloni qui Mi danno speed Attack damage Attack speed Non mi danno i cuori extra Quindi ne vale la pena In questo caso Sì ragazzi Guardate mi dà uno in più di armatura E tra l'altro C'ho la speed e tutto Per ora li teniamo Non so ancora se utilizzarli Oppure no Detto questo Passiamo finalmente Ai lucky block horror Ragazzi Perché ho voluto aprirne Altri 30 di lucky block horror Perché Ecco Come si può vedere anche qua Forse questa sarà trovata Non lo so Comunque Nell'ultimo episodio appunto Che poi è il primo In cui li ho mostrati Ho trovato tante cose Sì mi avete detto però Che in verità Potevo trovare molte Molte più cose E me ne sono reso conto pure io Alcune volte perché sono effettivamente Vuoti come potete vedere ora Altre volte invece perché Effettivamente esponano Le solite schifezzine Ecco questo ad esempio è nuovo Ora andiamo anche a vedere E quindi ragazzi Ho deciso di prenderne altri Perché non abbiamo visto Tutti i drop che ci sono Sono molto interessanti E vorrei esplorarli per bene Detto questo Abbiamo già raccattato un po' di roba Vediamo cosa ci è uscito Le scarpettine sono Un mezzo più forti Però come si può vedere Quelle che abbiamo noi Ci danno i quari extra Quindi le possiamo buttare Spade da 18 di danno Fa meno danno della mia Ma comunque ragazzi Spada veramente figa Interessante Mi piace Questa è una tamarrata Un'altra spada Fa ben 16 di danno E figa perché rispetto alle altre spade È proprio una forma strana Tra l'altro strana Inteso che proprio non l'ho mai vista Non che ha la classica forma Interessante anche questa Ma in questo momento Non ci servirà Poi un'altra spada Da 11 di danno Qua horror material Che potremmo utilizzare Dopo magari ci possiamo Craftare qualcosa E tra l'altro non si era trovato Perché noi abbiamo trovato Avevamo trovato nello scorso episodio Il dusty o qualcosa di simile Che appunto serve per farci Quelle scarpette Insomma Quei pezzi di armatura lì Mentre l'horror Non si era trovato E anche il ghost potion Che questa Sì Ce l'avevamo già l'altra volta Ma È una cosa abbastanza Inutile Lezza Perfetto Altro materiale horror Ragazzi Questa roba qui È veramente figa Perché possiamo vedere Cosa ci si può craftare Ah ok Sandstorm Si chiamava Quel materiale Non era dusty qualcosa E ci si fanno Quest'erontori qui Che vi ripeto Sono più potenti Di quelle che ho Era di poco Ma Mi levano i cuori extra Che sinceramente Mi fanno molto molto comodo Comunque ragazzi Non sono rimasti tantissimi Apriamoli veramente a raffi Che tanto sono gli ultimi E mi piacerebbe sinceramente Andarle a riaprire Magari in qualche altro episodio Quindi fatemelo sapere Anche voi nei commenti Se vi interessa E subito sbam Ragazzi Abbiamo trovato Ciò che mi interessava Cioè in verità Non stavo cercando questo Però ci saremmo arrivati Con calma dopo Intanto prima ho trovato Anche un arco Ok Inutile Però ho le frecce Boh Teniamolo Intanto andiamo a casa E leviamoci le schifezze Di dosso Questa volta ragazzi Non ho buttato praticamente nulla Anche perché Guardate un pochettino Avevamo già l'inventario vuoto Già di nostro Cosa molto strana Devo dire Comunque Abbiamo trovato L'horror chestplate Vado a pensare Che effettivamente Con l'horror material Potremo craftare Le cose tipo queste qua Andiamo a vedere se però sono buone Wow Ok Mi ricordo benissimo Che gli altri pezzettini Aggiungevano uno Magari il corpetto Già di suo dava di più Però wow Questo qui dà veramente Molto di più Infatti guardate Qua manca uno E qua abbiamo addirittura Uno in più Quindi questo qui dà Ben due di protezione in più Ma non dà strani incantamenti Guardate Non dà assolutamente nulla Quindi Non mi interessa Più di tanto Vorrei giusto vedere Se la spada è buona Oppure no Quindi ragazzi Veramente Potevamo seriamente Non aprire tutti questi Lucky block E comunque avremmo avuto La stessa roba che abbiamo ora Io intanto Mi sto facendo degli stick Perché voglio vedere Se ci si può fare una spada La spada ragazzi In horror Non si può fare Peccato Peccato Ma probabilmente esiste Qualche spada strana Anche di questa mod qui Comunque Sì Come potete vedere Preferisco Andare un pochettino di più Di cuori extra Che di protezione Tanto alla fine Il boss di oggi Avrà tantissima vita Ma Se tutto va bene Non dovrebbe crearmi Grossi problemi Riguardo al danno Almeno non con tutti questi cuori E di certo non con le mele OP E le golden apple Detto questo Facciamo spawnare la struttura Perfetto La roba per far spawnare il boss Si trova qua dentro Quindi prendiamo tutto quanto E ho 64 Nelle star Perché sì Ho voluto esoggerere un pochettino Ma ovviamente Non le andremo a utilizzare tutte Anzi Penso che sia già tanto Andarlo a killare una volta Questo boss Non sono assolutamente Da sottovalutare Almeno non da quando Ho cominciato a ripeterli Perché ragazzi Vi ripeto Che sono molto molto più potenziati Rispetto alla prima volta Quindi Potrebbe essere un problemino Detto questo Che lui Sta spawnando in questo momento Prima Vorrei fare un test Sul danno Voglio vedere quanto danno mi faccia Intanto però mi preparo Qua cosa ho Rigenerazione 3 Addirittura Eh ragazzi Rigenerazione 3 Non mi farà mai nulla Come si può vedere Il boss comunque è molto lento Ok mi fa spawnare i fulmine Già quelli mi fanno male No Ho tirato il mio coso Aio No ragazzi Ok ok Subito la mela Subito la mela Mi sono fatto malissimo Scusatemi Ho failato di cattiveria Ma questa qui è stata veramente Una cosa bruttissima Ah no l'ho recuperata Allora la staffa Ma no ragazzi Vi giuro Non l'ho fatta apposto Ho premuto la cup Per sbaglio Allora Si è visto che mi ci sono avvicinato E mi ha fatto malissimo Quindi Non è stata proprio bella Come cosa Per il momento Non voglio ricorrere Alle mele op O alle pozioni Però ragazzi Guardate Mi ha dato fuoco E Potrebbe essere un problema Ragazzi Perché se Io Ci vorrei provare d'arco Ma tanto so che l'arco Non farà nulla a lui Cioè ragazzi Ha veramente uno sbotto di vita E Non ce la posso fare con un'arma così Ci devo andare di sconto diretto Però ho visto che Su come mi sono avvicinato prima Veramente Non era fattibile proprio Cioè Mi ha levato Una striscia di cuori piena Quindi Cosa faccio Mi bevo questa qui Con rigenerazione 3 Sì dai ragazzi Mi sa che è l'unica Tanto non mi farà mai così Tanto danno insieme Ma ragazzi Ma rigenerazione 3 Non mi sta curando poi così Velocemente Vabbè In effetti rispetto allo standard È velocemente Ma poter rischiarmela di cattiveria Se mi fa male Beh almeno gli do fuoco pure io È un lato positivo sicuramente Però mi fa male Ragazzi Ogni tanto Ogni tanto non mi attacca Non so perché E certe volte Invece mi fa tipo 3 e 4 attacche di seguito Che mi levano uno sbotto di vita Che poi ho notato Non è il fulmine Che mi fa danno Ma è un qualcosa Dopo il fulmine Cioè praticamente Prima mi arriva il fulmine addosso E poi il danno Non capisco il perché E va Ragazzi Si va a uccidere finalmente Probabilmente Voi non avete visto Tutto lo scontro Perché sono stato tipo Mezz'ora a tartassarlo così Spesso e volentieri Non mi attaccava E ripeto Meno male Meno male perché Se faceva come ha fatto all'inizio Mi toglieva tutta la vita In veramente Due secondi E non mi sembrava il caso Perché S'è andato a creparci tantissimo Detto questo Il drop È la sua testa Che è una cosa Totalmente inutile Mi sembra di aver capito Cioè una testolina Messa così a caso Ma ragazzi Abbiamo La sua staffa Che è un osso È un osso molto particolare Infatti farà molto danno Ma dovrebbe spedire i nemici Molto lontano Come avete visto Li ho shottati Non l'avevo colpiti prima Anche perché se li avessi colpiti Con questa spada qui L'avrei shottati Ma in teoria Oltre che shottarli Dovrebbe avere Knockback altissimo Cosa che non c'è scritta Però fidatevi Ce l'ha In effetti Ora che ci penso Ci stavano andando Di scontro diretto Non volevo usare le frecce Perché appunto Non facevano danno Ma io avevo questa roba qui Ragazzi che è potentissima Potevo spammare così Addosso di cattiveria E lo andavo a killare Oddio Non velocemente Però comunque Ce la facevo senza rischiare Ragazzi non ci ho pensato L'ho tirata con la cu E da quel momento Anche se l'ho recuperata Per me non esisteva già più E vabbè dai Comunque ragazzi Spero che questo video Leggissimo vi sia piaciuto Vi ricordo che nei prossimi episodi Probabilmente vedrete Dei nuovi lucky block Quindi state aggiornati Vi ricordo che questa qui È la serie del lunedì Quindi non perdetevela Detto questo Ciao a tutti